Musica Nuova apertura, nuovo modo di divertirsi all'aperitivo del Gioia Lunch Bar In mia compagnia c'è Luca, buonasera Luca, come stai? Molto molto bene, grazie, tu come stai Manisa? Eh, molto bene, molto bene, ma diciamolo, dove ci troviamo? Ci troviamo a Pomigliano d'Arco, il Gioia Lounge Bar Un aperitivo che comincia molto molto presto, intorno alle 19 Questo ci consentirà di spostarci nei locali della città Ebbene, allora non resta che lanciare le immagini di questa originale Notte Brava! Sono in compagnia di Lello, buonasera Lello, come stai? Ciao, buonasera, tutto a posto? Beh, allora, innanzitutto complimenti per questo aperitivo, so che inizia intorno alle 19.30, parliamone! Ok, il nostro aperitivo inizia tutte le volte, ogni venerdì verso le 19.30 Stiamo iniziando questa nuova cosa, ormai già da un po' di tempo La stiamo un po' migliorando, cerchiamo di migliorarla anche grazie a voi, sono sincero Perché è una bella trasmissione, è una bella cosa che fate Grazie Vogliamo dare un altro immagino alla nostra attività Un bel bar, bella gente comunque, un bel locale che va molto bene, fortunatamente Beh, Lello, a questo punto ho una mia curiosità Una tua Notte Brava? Allora, la mia Notte Brava era un po' più giovincello, diciamo E con gli amici, come un po' tutti i ragazzi, si sta nei locali, si beve, si diri, si scherza Ma senza esagerare, sono sincero, questa è la mia Notte Brava E Notte Brava lancia un messaggio di prevenzione Per quanto riguarda l'alcol, un tuo messaggio personale per tutti i giovani Che non devono mettersi assolutamente alla guida ubriati Questa è una delle cose più interessanti che lo Stato italiano ha potuto fare per i ragazzi Perché il problema dell'alcol è uno dei problemi, credo, un po' più diffusi Bisogna bere poco quanto basta per stare un po' più allegri Soprattutto che guida è necessaria che non deva bere E anche noi professionisti del settore dobbiamo stare molto attenti a chi sta esagerando Non resta che salutare tutti gli amici di Notte Brava E mi raccomando, vi aspetto sempre qua a Gioia, riconodiamo tanto Un caroso abbraccio e un salutone, grazie mille Ciao! 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 Grazie a tutti.